Molti di voi avevano sollecitato l'amministrazione comunale ad avere un pronunciamento rispetto ai ripetitori 5G. Nella settimana scorsa abbiamo adottato una delibera in cui l'amministrazione comunale di Sansevero esprime la sua posizione fermamente contraria a questo tipo di insediamento. Diciamo che allo Stato, se la dobbiamo dire tutta, la comunità scientifica non ancora si è pronunciata rispetto alla dannosità di queste installazioni. Ma nel dubbio, e finquanto non ci sarà un pronunciamento certo che mette d'accordo tutti gli scienziati e tutti gli studiosi, nel dubbio per il principio di precauzione il Comune di Sansevero dice no. Nel momento in cui la comunità scientifica dovesse arrivare a conclusioni differenti, questa posizione verrà rimista, rivalutata e rianalizzata. Allo Stato, siccome non sono d'accordo tra di loro, noi diciamo comunque no. Nel dubbio non vogliamo correre alcun rischio. E quindi, recependo anche alcune segnalazioni e alcune sollecitazioni di molti di voi, abbiamo adottato questa delibera in cui esprimiamo una posizione contraria ai 5.